Salve a tutti ragazzi, questo è il mio quinto video e voglio mostrarvi se trovo il foglio, aspettate voglio mostrarvi come non far laggare Minecraft allora, vi guardo se trovo il foglio forse aspettate sarà qui dietro si, perfetto voglio mostrare come si fa allora, per non far laggare Minecraft dovete fare così vi dico subito, se il vostro PC ha 2 GB di memoria RAM minori vi conviene non farlo però se gli ha maggiori vi conviene farlo vi dico subito che non vi lagherà più vi lagherà un po' meno se registrate, però vi lagga lo stesso ogni secolo diciamo, quindi vi spiego dovete andare su computer cliccare il tasto destro proprietà poi vi viene fuori la memoria RAM se è 4 GB come vedete 4 GB poi qui in alto su cerca bisogna scrivere Java vedete qui? cliccateci sopra si apre questa schermata dovete fare Java dopo dovete fare Visualizza aspettate qui vi spiego adesso poi vi viene a schiacciare finché qua non diventa bianco e qui dovete scrivere meno X maiuscola M x minuscola poi in base a quanti MB il vostro computer ha cioè GB bisogna scrivere fate conto 1 GB equivale a 1024 MB quindi il mio computer avendo 4 GB io metto 4000 poi dopo bisogna mettere MB poi fate OK e poi non chiudete questo bisogna fare OK dopo qua si può chiudere o dopo se andate su Minecraft vi mostro aspettate dove è? dove è? Minecraft guardate ora vi mostrerò che non lagga più laggerà soltanto un po' nel adesso mi lagga perché inizio il video però guardate non lagga più magicamente non lagga più avete visto? vi dico subito che se siete in modalità creativa nella patch 1.8 vi laggerà soltanto quando volerete osservate guardate lagga però è normale quando volate capito? comunque voglio chiedervi se per piacere nei commenti potete scrivere come si fa a modificare la neve nella patch 1.8 perché non so come si fa e mi resta sempre al minimo diciamo non riesco a vedere comunque ok ragazzi avete visto quindi ragazzi per questo video è tutto ciao e al prossimo video e al prossimo video ciao ciao